Ciao a tutti, dopo grande richiesta oggi vi porto la mia valutazione personal su Paypal Prima di partire però ci tenevo a dirvi che ieri è uscita l'analisi della trimestrale di Netflix Purtroppo YouTube non so perché non ha mandato le notifiche, non ha pubblicato il feed di iscrizione del video e quindi mi è andato malissimo Se avete piacere e magari vi la siete persa, andate pure a vedervelo, vi lascio il link in descrizione Come avrete letto sicuramente dal titolo, oggi vi porto la mia analisi di Paypal Perché? Perché semplicemente è diventata una delle mie più grandi posizioni Sia nel mio portafoglio pubblico sia nel portafoglio anche di mio padre Su Paypal considerate che io attualmente sono in perita all'incerca di un 20% Se non ricordo male dovrei avere un prezzo intorno ai 95-100 dollari Adesso non so tra i vari portafogli qual è il prezzo medio ma comunque in linea generale dovrebbe essere intorno a quel prezzo lì Paypal ha avuto un declino inesorabile a partire da luglio 2021 Quindi sono praticamente un anno e mezzo che continua in perterita a crollare Ha perso addirittura, ha avuto la massima estensione della perdita intorno ai 78% di perdita Attualmente in perdita del 74% A mio avviso il crollo del prezzo delle azioni è dovuto principalmente a due motivi Il primo è semplicemente un ritorno a dei multipli corretti Questo ad esempio è il grafico che riporta il price to free cash flow E come potete vedere a luglio 2021 Paypal aveva un price to free cash flow di 56 Questo vuol dire che se noi prendiamo il free cash flow annuale per rientrare del nostro investimento sarebbero dovuti passare 56 anni Capite che era un po' esagerato Infatti io Paypal ce l'ho avuta in portafoglio Non l'ho mai venduta perché non era una posizione abbastanza grande Ma sicuramente non ho comprato a quei prezzi lì Infatti come potete vedere la perdita nonostante un crollo del 78% è solo di all'incirca un 20% E oggi voglio dirvi secondo me se può avere senso comprare Detto questo fatemi sapere questo nei commenti se avete una posizione su Paypal e semplicemente in generale cosa ne pensate Un'altra cosa che mi farebbe piacere sapere è Voi se avete la possibilità di comprare su un sito con vari metodi e c'è Paypal Quale utilizzate? Io personalmente se ho Paypal su siti che non reputo il massimo dell'affidabilità Io compro sempre e unicamente con Paypal In tantissimi siti se non c'è Paypal io non compro Semplicemente perché Paypal per quanto riguarda la mia storia di acquisti su internet È quello che mi ha in generale garantito il massimo rispetto delle regole da parte del venditore E c'è stato un caso in cui non ho ricevuto la merce Semplicemente perché non era stata spedita Ho fatto reclamo su Paypal e in tempo uno se non ricordo male due giorni Ho ricevuto effettivamente i soldi indietro E per quanto mi riguarda un'esperienza del genere Anche se è successa una sola volta in vita mia Mi fa dire Boh se sono la possibilità di comprare con Paypal Compro con Paypal Stop Il secondo motivo per il quale secondo me Paypal è crollata È il fatto che tendenzialmente con un aumento di tassi di interesse Società Growth Quindi aziende che tendenzialmente accrescono i propri ricavi e utili All'incirca sopra una doppia cifra Tendenzialmente vengono valutati di meno Semplicemente perché gli utili e i ricavi per i quali le azioni sono apprezzate Sono spostati nel futuro ed essendo che con tassi più alti i soldi futuri sono attualizzati a un tasso di sconto maggiore Ovviamente quei soldi valgono di meno E di conseguenza essendo che generalmente le azioni vengono valutate tramite un discounted cash flow Ovviamente Paypal vale di meno Come potete vedere utilizzando un sito che io personalmente trovo affidabilissimo Ovviamente non è una sponsorizzazione ma è un sito che io utilizzo sempre Che è Seeking Alpha Possiamo andare a vedere qual è l'aspettativa sia per i ricavi sia per gli utili per i prossimi anni Attualmente gli analisti stimano una crescita per quest'anno quindi del 2022 Solo dell'8% per quanto riguarda i ricavi E poi un incremento della crescita nei prossimi anni Che passa dall'8% fino al 12,5% nei prossimi 2-3 anni Un trend simile è quello dell'utile per azioni Infatti Paypal quest'anno dovrebbe avere un decremento all'incirca del 12% Puoi crescere all'incirca del 17% per i prossimi 2 anni E considerate anche che nel momento in cui i tassi di interesse si abbasseranno Il free cash flow di Paypal inevitabilmente varrà di più Se il free cash flow varrà di più Allora Paypal varrà di più E oltre a conteggiare l'abbassamento dei tassi di interesse Aumentiamo anche le stime sui utili Inevitabilmente anche i multipli devono aumentare Quindi non solo Paypal crescerà Ma inevitabilmente a mio avviso cresceranno anche i multipli E vi ho spiegato il perché Ed è per questo che a mio avviso Se noi prendiamo il free cash flow attuale di Paypal E stimiamo una crescita normalissima All'incirca di un 10-12% Per i prossimi anni un perpetual growth rate del 2,5% Otteniamo per Paypal una sottovalutazione all'incirca del 35% ai prezzi attuali Infatti trovo un fair value intorno ai 107 dollari Per quanto riguarda la valutazione tramite l'algoritmo creato da me Che tiene in considerazione all'incirca di una sessantina di input E ci rilascia un rating da 1 a 10 Paypal ha un rating di 6 So che può sembrarvi basso però gli input che ho impostato io sono abbastanza stringenti Quindi nel momento in cui un'azione riesce ad avere un voto sopra il 6 A mio avviso è una buona azione E ora andiamo a vedere i rating nel single Ad esempio se noi andiamo a vedere il rating sullo stato patrimoniale Otteniamo un voto da 1 a 10 di 6,67 Che non è per niente male ve lo posso assicurare Infatti Paypal è super solida L'unica cosa che non mi fa impazzire di Paypal È il fatto che al contrario di aziende come Visa e Mastercard O anche American Express Ha margini sì importanti ma molto più bassi della tra virgolette concorrenza So che non operano nello stesso settore Però vorrei vedere da Paypal margini più elevati Visto il settore in cui opera È questo quello che volevo dire Se noi andiamo a vedere gli ultimi anni Dal 2014 al 2022 Il cross operating e il net margin Non hanno subito il miglioramento che voglio vedere Il cross margin è calato È passato da un 52% ad un 42% In solamente 8 anni Il net margin intorno al 14-15% Era perfetto Ovviamente ha avuto un picco nel 2021 Quando sostanzialmente eravamo tutti a casa Quindi tutti avevano la possibilità di comprare tramite Paypal Infatti ha aumentato tantissimi margini Però un margine dell'8% Nel settore in cui opera Paypal Non si può vedere oggettivamente a mio avviso Il vero game changer per Paypal A mio avviso è stato l'acquisizione di Venmo E la conseguente partnership con Amazon Perché per chi non lo sapesse Paypal Ha sempre avuto il problema che Non si potesse utilizzare come metodo di pagamento Su Amazon Perché? Perché Paypal Era stata acquisita per un miliardo di dollari da eBay Ed eBay Essendo uno dei principali competitor di Amazon 5-10 anni fa Aveva stretto una collaborazione con Paypal Che ne prevedeva l'esclusiva Poi Paypal è cresciuta molto più di eBay Si sono divise le due aziende E piano piano Paypal sta cercando di eliminare Completamente la dipendenza da eBay Un altro catalizzatore è il fatto che Paypal Ha aggiunto recentemente Mi pare nell'ultimo anno La possibilità di comprare e vendere criptovalute Sul proprio portale Che nel 2023 è inevitabile Quindi quello che mi sta facendo piacere di Paypal È il fatto che si sta aggiornando Per quanto riguarda la volutazione tramite multiple Diciamo che la situazione è super sana Abbiamo un price earnings Tenendo conto dell'utile operazione non gap Abbiamo un price earnings di praticamente 20 Un price to 60 di 3 Un price to free cash flow di 16 Quindi perfetto E in generale una valutazione di 7.11 su 10 Quindi diciamo che la situazione è perfetta Ora andiamo a vedere la mia valutazione totale Considerando anche il discounted cash flow Su Paypal Per quanto mi riguarda Paypal A questi prezzi qua È molto sottovalutata Semplicemente perché Io stimo la crescita dell'utile operazione Dell'11% anno per i prossimi 3 anni Che è in linea con le stime di analisti Infatti se ne prendiamo Alpha Spread Andiamo a vedere le stime di Wall Street Vediamo come l'utile operazione e le revenue Sono previsti in crescita all'incirca di un 10-15% anno Io sono stato un po' più conservativo Però in generale gli analisti Quindi 50 analisti di Wall Street Prevedono una crescita degli utili operazioni All'incirca del 16% anno per i prossimi anni Questo mi porta ad avere un'utile operazione Fra 3 anni e all'incirca di 5.60% E con un PE che ho stimato io Intorno ai 25% Che è in linea con lo storico Anzi è leggermente più basso Però a mio avviso ci può stare Perché Paypal negli ultimi anni è cresciuta anche più Velocemente rispetto a quanto crescerà fra 3 anni Quindi a mio avviso è giusto che l'abbassamento di Multipli ci sia E questo ci porta ad avere una crescita All'incirca dell'80% In 3-4 anni Considerate che se proprio vi dovessi dire Un punto di ingresso perfetto Direi che si può trovare intorno ai 70 dollari Intorno a questa resistenza qua Detto questo Molto probabilmente ci vedremo domani Con il video sulle azioni Che ho comprato durante questo crollo qua Detto questo Spero che il video vi sia piaciuto Asciutto un bel like Un commento E ci vediamo al prossimo video E ci vediamo al prossimo video Grazie a tutti